Musica 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 Grinta con i due portieri disoccupati Colpa di un Bari che si accende solo quando Pietro Maiellaro decide di dimostrare quanto si è sprecato in Serie B Merito di un Lecce che rinunciando alla seconda punta infoltisce il centrocampo e marca stretto su ogni palla E anche il derby degli stranieri, argentini nel Lecce e inglesi nel Bari Ma certe partite le sentono di più i nati in casa, come Detrizio Guardate cosa inventa al terzo minuto della ripresa calciando una punizione da 50 metri Braglia capisce di aver fatto Babbo Natale e per due volte cerca il perdono Prima su Perrone, ottima la sua prestazione nella ripresa E poi su una punizione con la quale l'inglese Rideout sperava di poter passare più contento le feste Nel frattempo il Lecce s'affanna ma non morde Anzi incassa su contropiede il raddoppio Lo inventa al ventitreesimo Maiellaro colto evidentemente da Raptus Maradoniano Guardate Il Lecce cerca la reazione ma l'arbitro Cornieti la stronca la mezz'ora Fuori contemporaneamente Limido e Pasquilli per proteste e paroline di troppo Cartelino rosso e bandiera bianca alla squadra di Mazzone non resta che arrendersi